Ho imparato a sprecare meno acqua, a spegnere correttamente gli elettrodomestici, ad usare lampadine a basso consumo, a costruire in maniera più consapevole. Ed ora, per me, per la mia famiglia, per la mia azienda, posso scegliere 100% Energia Pulita 30. Semplice. L'energia elettrica pulita, prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili negli impianti idroelettrici del Trentino. E' garantita da una certificazione europea ed è riconoscibile dal marchio 100% Energia Pulita. Un marchio che potrai usare per comunicare il tuo impegno a favore dell'ambiente. Trenta. L'energia di una terra buona. L'energia di un iscrizione. L'energia di un'escrizione. Grazie.